All'interno del secondo volume del Canzoniere di Saba c'è una sezione che si intitola Il Piccolo Berto. Il Piccolo Berto dottor Edoardo Weiss, allievo di Freud, che operava a Trieste. Questo periodo di esperienza della psicanalisi porta Umberto Saba a far riaffiorare il proprio passato, al recupero anche sul piano della letteratura, della sua poesia, di una fase della sua vita, quella dell'infanzia, che è segnata da un trauma. E in particolare il trauma è quello dell'abbandono, della costrizione a dover lasciare la baglia che per lui ha rappresentato un momento di felicità, una sorta di paradiso, come si legge nei testi che ora leggeremo. Questo recupero dunque della memoria che prende corpo in una poesia, in una serie di poesie, sono tre poesie alla mia baglia, noi ci occupiamo della prima e della terza. Il recupero dell'infanzia avviene attraverso delle associazioni di immagine, che sono, magari sembrano slegate tra di loro, ma che in realtà, secondo la pratica della psicanalisi, hanno in realtà un collegamento sotterraneo, sotteso, che le lega in modo forte. L'apertura del primo testo è affidata ad un abbraccio della bambina, della figlia del poeta al padre, una situazione di abbandono per cui il poeta si immagina, sogna di una situazione onirica, di galleggiare nel mare. Questa situazione di abbandono poi lo trasporta nel tempo, lo porta a recuperare nella memoria l'immagine dell'amoroso seno della baglia e di verdi paradisi dell'infanzia. Nel secondo testo, di cui non ci occupiamo, il poeta desidera incontrare la vecchia baglia nel suo negozietto e nel terzo, invece, abbiamo due piani temporali fondamentalmente da riconoscere. Il primo è quello che rievoca il momento traumatico del passato della separazione dalla baglia e il secondo, invece, è il piano del presente, del poeta che si reca, ormai quarantenne, in visita alla baglia e regola l'orologio di casa come era solito fare il baglio che è il marito della baglia. Ecco, questi sono gli attori che agiscono in questa sorta di pagina di un romanzo, la figlia, il poeta, la baglia, la cui centralità è assicurata anche dal richiamo al modo in cui la chiamava il poeta, Berto, in modo affettuoso. E poi dal fatto va ricordato anche questo che Saba deve il suo nome e cognome d'arte a Sabaz, che era il cognome della baglia. Altro personaggio il marito e poi c'è la moglie, perché nella parte finale è la baglia stessa a dire, nell'unico discorso diretto del testo, a dire al poeta di tornare dalla propria moglie. Ecco, questi sono gli attori di questa pagina del canzoniere. Non viene nominata, ma è un'assenza molto eloquente che la dice lunga, la figura della madre, perché evidentemente è il fulcro di tutto il dramma, di tutta la nevrosi che interessò poi il poeta nel corso della sua esistenza. All'inizio il poeta ricorda questa situazione domestica, familiare, della figlia che lo abbraccia, ha un braccio intorno al collo che è ignudo. Mi sa tanto questo ignudo di inerme, di privo di protezione, come del resto è il ricordo traumatico che poi viene rievocato, il momento traumatico della separazione dalla baglia. E il poeta si abbandona, si abbandona le carezze della figlia e dice di diventare un legno in mezzo al mare che è caduto sull'onda e che galleggia. È un'immagine dunque di armonia e di abbandono. E dice dove alla vicina sponda, cioè quando anello, desidero raggiungere la vicina sponda, il flutto, l'onda, mi porta lontano. E dice che di sentire anche come si avana la lotta contro, nel suo tentativo di raggiungere la sponda. O come in petto, per dolcezza, il cuore viene meno. Ricorda un po' è il naufragarme dolci in questo mare di Leopardi, ma qui c'è proprio l'idea della dolcezza e il proposito che viene meno. Non raggiunge la terra perché evidentemente galleggia ed in uno stato di sospensione, di abbandono. E poi, nella strofa successiva, l'effetto di questo abbraccio protettivo della figlia e di questa sensazione di abbandono al mare è quella di approdare, ma non alla terra, bensì al seno con perifrasi della baglia, che viene detta di colei che Berto ancora mi chiama. Ed è un seno che è definito al primo, all'amoroso seno, quindi ad indicare la protezione, ma anche l'affetto straordinario, forte, ai verdi paradisi dell'infanzia. Anche questa è una sensazione forte, una sorta di approdo ad una situazione di felicità paradisiaca, che nell'esperienza di Saba coincide con i primi tre anni della sua infanzia insieme alla baglia. Nella terza parte, nel terzo testo di queste tre poesie alla mia baglia, invece entriamo in pieno nel momento di una scena drammatica che viene rappresentata attraverso pochi tratti, ma che sono altamente drammatici. Ci sono dei puntini di sospensione, un grido, salsa di bimbo sulle scale, c'è questo iperbato, un grido di bimbo che si leva e piange anche la donna che va via. L'anastrofe, la donna che va via piange, ma l'anastrofe valorizza un grido, piange in due versi consecutivi, la donna che va via è la baglia e si frange, cioè si rompe, vale a dire il poeta registra una frattura nella propria vita, si frange per sempre un cuore in quel momento. Ecco che il trauma segna l'inizio di una scissione, quel tema della mancata integrità che più volte affiora nel canzoniere. In quel momento si frange, faccio anche notare si alza, piange, si frange, faccio anche notare come i verbi siano al presente. Abbiamo un recupero di un'esperienza del passato, ma il presente è giustificato perché nella psicanalisi i momenti forti, i momenti del trauma così intenso, così vivo, vissuto in un determinato momento, rimangono però come compresenti, come sempre attuali nella mente del paziente. Ed ecco dunque che è un istante che viene recuperato con il verbo al presente. Adesso sono passati 40 anni, l'antitesi tra un cuore in quel momento che si frange e adesso il poeta adulto ha 40 anni, il bimbo è un uomo adesso. La constatazione che sono passati 40 anni, che ormai Berto è diventato un uomo quasi un vecchio, che ha conosciuto e sperto molti beni e molti mali. E poi si precisa attraverso il nome, che però è un nome diviso, perché dice è Umberto al verso 9 e Saba viene posto appena al verso 10 all'inizio. E questa scelta è una scelta carica di significato perché abbiamo Umberto, nome, e Saba a capo. A sottolineare attraverso questo verso spaccato proprio quell'idea dello strappo, questo tema della scissione all'interno del poeta. è Umberto Saba quel bimbo e va di pace in cerca, l'anastrofe, e va in cerca di pace a conversare con la sua nutrice che anche ella fu di lasciarlo infelice. Quindi ritorna dunque come sopra ai versi 2 e 3 piange anche la donna che va via al tema dell'infelicità della baglia che non volontaria lo lasciava, quindi una costrizione. Il mondo fu a lui sospetto da allora, fu sempre, o tale almeno gli parve, nemico. Ecco dunque il risultato di quel momento così altamente traumatico. Il mondo, per il poeta, è qualcosa di inaffidabile. Il suo atteggiamento giustificato dal trauma è di diffidenza nei confronti del mondo che gli parve, che fu sempre, o tale almeno gli parve, nemico. Quindi da quel trauma, in quel trauma, c'è l'inizio di un rapporto difficoltoso, sospettoso, diffidente, nei confronti del mondo, nei confronti degli altri. C'è uno spazio bianco e poi c'è il ricordo di un orologio antico. Appeso al muro, nel negozio della ex baglia, è un orologio antico, così che manda un suono quasi morto, che nel tempo felice veniva regolato dal dolce baglio. E' un caro a lui conforto, cioè motivo di conforto e di consolazione per il poeta, regolarlo al posto del baglio. Interessante questo perché il poeta non ha avuto una figura paterna al suo fianco ed evidentemente c'è una volontà di identificazione del baglio con una figura paterna che per lui non è mai esistita, o anche la sostituzione, la volontà di sostituirsi al baglio in un rapporto esclusivo con la donna che gli ha fatto da baglia. Quindi ci sono dietro delle azioni che sembrano così semplici, si nascondono dei desideri che attraverso la psicoanalisi possono riemergere. E dice anche gli piace, cioè ancora gli piace, accendere il lume alla sera, restare da lei gli piace, ecco che c'è una nota di consolazione, di conforto, finché ella gli dice e tardi torna da tua moglie Berto. Con questo discorso diretto che chiude questa terza poesia in cui all'inizio c'era una separazione dovuta a una costrizione e invece adesso c'è un invito della baglia al grande Berto a tornare dalla propria moglie. È un testo sicuramente centrale per comprendere la poetica di Saba, intanto perché è un esempio di poesia onesta. L'autore si mette a nudo, scrive dei versi che sono, come egli stesso ebbe a dire nella storia e cronistoria del canzoniere, sono versi raso terra, immagine forte che ci dice di versi che con le sue parole ancora non amplificano e nemmeno ingannano. Sono versi costruiti su un lessico piano, cuore, pace, amoroso, seno, tempo felice. Sono versi che sono ben lontani dalla magniloquenza, dal lessico, dai preziosismi, del linguaggio ricercato di D'Annunzio. Ma D'Annunzio andava nella direzione di un'opposizione rispetto agli altri uomini, mentre invece, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, Saba e suo desiderio vivere la vita di tutti, essere come tutti, gli uomini di tutti i giorni, come si legge nel testo poetico che si intitola Il Borgo. È un testo che, nell'ottica della psicanalisi, ci mette di fronte ad un'idea di infanzia non come un'età felice, una felicità edenica, primigenia, originaria, ma come un'età che si colloca all'origine di quelli che sono conflitti, traumi, scissioni che poi accompagnano fino all'età adulta un uomo. L'infanzia dunque non come un luogo in un momento di felicità e di innocenza, ma l'infanzia che non viene recuperato in termini positivi, ma che semmai diventa oggetto di indagine per comprendere le cause della scissione dell'io. E da ultimo, centrale, è il rapporto con la psicanalisi. Le immagini che si susseguono sembrano immagini slegate, l'abbraccio della figlia, il mare in cui il poeta galleggia si abbandona, una situazione onirica, una sorta di immersione che poi è immersione nel passato quando si trova a pensare, a recuperare l'immagine dell'amoroso seno della baglia. Tutto è compresente, i confini tra quello che è reale e quello che è immaginario sono molto labili, ma questo è caratteristica della prassi della psicanalisi perché chi è affetto da nevrosi è portato a leggere l'origine dei propri traumi in momenti che appartengono sia al suo passato ma che possono sembrare ancora compresenti attuali perché sono evidentemente momenti fondanti, originari all'origine della propria nevrosi. e quindi questa lettura del passato questo registro che percorre la legge dell'inconscio della psicanalisi la contrapposizione fra due opposte figure femminili che appartengono al passato del poeta ma che ne hanno segnato l'inizio del trauma la baglia affettuosa e la madre severa che recrimina contro gli uomini insomma per tutti questi aspetti possiamo considerare che questi testi poetici dedicati alla baglia ci consentono di capire molto della scissione dell'io in Saba di capire